Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Faccio questo velocissimo video per ricordarvi che stasera, come vi avevo anticipato, ci sarà la seconda parte dell'avventura I Segreti di Katarina Springs, che giocheremo con il regolamento di Savage Worlds e ambientazione Deadlands, direttamente sul mio canale Twitch, che trovate come primo link in descrizione alle 9 stasera. Quindi porteremo avanti l'avventura che avete trovato caricata qui nella prima parte su YouTube e giocata la settimana scorsa. Vediamo di finirla entro stasera, se non ce lo facciamo massimo con un'altra puntata, vedremo di finirla. Quindi mi raccomando, vi aspettiamo alle 9 stasera sul canale di Twitch. E importante, tanto ho messo il bot che spamma, ricordatevi che potete usare i punti fagiolo che guadagnerete semplicemente guardando la live per fare cose in gioco. Voi sarete un pubblico, uno spettatore, attivo e non passivo. Non sarete lì soltanto limitandovi a vedere la live, ma potrete usare i punti che guadagnerete gratuitamente guardando la mia live per fare accadere cose in gioco, tipo dare un bonus, dare un malus, fare apparire un NPC o per punteggi molto più alti addirittura potrete cambiare un po' il corso della storia. Quindi mi raccomando, tanto poi ci sarà il bot a spammarvelo. Deadlands stasera, la seconda parte dell'avventura, vi aspetto alle 9. Ciao ragazzi!